Noi eravamo molto affezionati ai macchi, ad essere macchi 200, 202, 205. Il 205 era un gioierino, aveva la sua bella velocità. Ma per me è stato il miglior comandante che abbiamo fatto. Ci ha fatto fare 11.000 metri con il 205. Sentivamo i comandi a vuoto perché non li sentiva più, non c'è l'importanza all'area, ma 11.000, 11.200. Ma i test non li abbiamo mai avuti, mai. Grazie. 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 Grazie.